Milano Nagretti ha preso il monumento di Arco della Pace. In Italia è un arco della pace che mi ha preso il corso di Sempione. Mi ha preso in Pernuncarane. Napoleone Bonaparte ha preso il giudice di Giulio Masi a Cavenda. Mi ha preso il giudice di Magenta e mi ha preso in Pernuncarane. 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 Per il busto di Pernuncarane mi ha preso in Pernuncarane. Io mi han preso in Pernuncarane.